Da domani a domenica a Poggiunbricchio di Crognaleto sarà protagonista il Tartufo Bianco d'Abruzzo con la settima edizione di Tuber Magnatum. Esatto, da domani comincia il weekend dedicato al tartufo, alle nobili virtù, all'allegria, i sapori, i profumi che si troveranno all'interno di questo borgo. Cosa proporrete? Oltre all'animazione per i bambini, la musica, la degustazione dei prodotti, ci saranno diversi stand che porteranno i loro prodotti a base di tartufo e poi tanta allegria. Tutto sarà svolto all'interno di tenso strutture riscaldate, per arrivare al paese ci sarà un bus navetta che il paese non sarà accessibile con le autovetture ma solo a piedi. Quindi i bambini potranno girare il paese, potranno giocare. Il tartufo come sarà possibile degustarlo? Abbiamo dei cuochi che prepareranno queste prelibatezze a base di tartufo, cercando di fare qualcosa di nuovo, qualche nuovo piatto. Il tartufo bianco è molto pregiato? È pregiatissimo, adesso ha dei prezzi assurdi che sono fuori controllo per il loro prezzo. Però ci sarà anche il tartufo nero, quello invernale, che ha delle proprietà eccellenti, che vale la pena di assaggiare. Da che ora a che ora sono aperti gli stand? Gli stand apriranno da domani sera fino a tarda notte, poi la domenica sabato mattina dalle 11 in poi fino a tarda notte e poi domenica ci sarà anche un'escursione a piedi, un breve percorso di un paio di chilometri per chi vuole farsi una passeggiata che non è impegnativa. Grazie a tutti.